Avellino e l'Irpinia di Franco Arminio. L'Irpinia è il pezzo d'Appennino che comincia quando bruscamente finisce la pianura campana e va avanti fino a quando cominciano i durci profili dei Monti Dauni. Dunque tra il capoluogo campano e la Puglia. Terra di mezzo, ma non terra media, terra di alture ruvide e spinose, terra conosciuta per il terremoto e non per la sua straordinaria bellezza. L'Irpinia non somiglia alla vicina Lucania e neppure al Sannio o al Cilento o all'Abruzzo interno. È un luogo unico dal punto di vista orografico nel nostro Appennino. La catena montuosa corre a ovest all'altezza di Avellino. Da lì verso est comincia un vasto altipiano ondulato che va avanti per una settantina di chilometri fino all'estremo lembo orientale di Monteverde. Dal castello del paese si vede il castello di Melfi come se fosse a due passi. Dall'altro lato, nell'estremo lembo occidentale dell'Irpinia, dal castello di Avella si vede assai bene tutta la trama della pianura campana e dei paesi accampati alle pendici del Vesuvio. L'Irpinia è una provincia senza mare. Sono pochissime nel sud le province non bagnate dal mare, ma in compenso è una provincia con tanta acqua. Da Caposele partono le sorgenti che dissetano la Puglia e da Serino quelle che dissetano Napoli. Come tante province italiane, anche l'Irpinia dà il suo contributo alla straordinaria diversità geografica del nostro paese. Zone di fitti boschi e vaste alture dove gli alberi li puoi contare sulle dita di una mano. Paesi di Irpinia, una scenografia silenziosa. L'Irpinia e i suoi paesaggi mutevoli e i suoi paesi colpiti prima dal terremoto nel 1980 e poi dalla ricostruzione. Una sciagura durata più di trent'anni che però non ha distrutto tutto. I paesi ci sono ancora, ci sono tracce di una bellezza diffusa, di una terra sospesa tra l'antico e il nuovo. È davvero difficile che si rimanga delusi da un viaggio in questa terra. Piuttosto è facile esserne sorpresi, ammirare paesi ricchi di belle piazze e bei portali, paesi in cui la sciatteria delle nuove costruzioni non occulta la maestria di quelle antiche. Il punto debole per la crescita turistica dell'Irpinia sono gli Irpini, nel senso che qui dimorano gli eroi della sfiducia, i patiti del disincanto. È assai difficile che possano arrivare tanti turisti in un luogo in cui le persone raramente si spostano da un paese all'altro. Da questo punto di vista, più che una provincia, sembra una nazione in cui si parlano lingue diverse e in cui ogni collina sembra un ostacolo insormontabile. Gli Irpini non amano il paese vicino e non hanno nessuna idea dell'Irpinia. Gli emigrati che tornano d'estate non tornano in Irpinia, tornano a Calitri, a Gesualdo, a Monte Calvo e non hanno mai pensato ai loro paesi e ai loro paesaggi come a luoghi di bellezza. È un problema che c'è in molti posti d'Italia, ma in Irpinia è davvero fortissimo. Addirittura, nel passato, certi paesi molto belli venivano considerati quasi con disprezzo. Penso a Cairano, perché l'unica lente con cui venivano guardati i luoghi era quella del successo economico e allora la mappa dell'Irpinia da vedere è proprio quella dei paesi più marginali, più nascosti. Una delle perle è Zungoli. Difficile dire dove si trova, come se il paese giocasse a nascondino col paesaggio. Tra l'altro è uno dei luoghi meno oltraggiati dalla ricostruzione. Zungoli è dolce e appartato. Un grappolo di case, scale e vicoli, una scenografia silenziosa in cui ogni tanto compare qualche anziana donna. Un altro posto appartato, ma ancora più estremo, è Montaguto. Qui siamo al confine coi Monti Dauni. È un pezzo d'Italia dove il mondo rurale sembra ancora vivo. Qui la modernità appare solo una fragile vernice. Montaguto è un posto scarno, assoluto. Ci devi andare quando non vuoi vedere fronzoli, quando sei pronto al silenzio estremo. E subito accanto trovi un altro paese scapolo. Un paese abitato dagli albanesi che arrivarono in Italia molti secoli fa e ora parlano un italiano gessoso e sembrano avere una sobrietà un poco più intensa della nostra. Greci e Montaguto sono quei paesi dove non trovi grandi attrazioni turistiche. Le case sembrano spuntare dalle zolle delle terre errate. Non c'è posto per il frivolo e il posticcio. Una qualche intensità che ti impiglia. L'Irpinia puoi rovistarla nel mezzo. I suoi paesi sono belli. Penso a Frigento, a Nusco, a Gesualdo, a Fontana Rosa, ma l'emozione la trovi sui margini. E allora vai a cercare quel che resta della vecchia senerchia o di consa. E allora devi sfondare verso il formicoso, verso i paesi che stavano in mezzo al grano e ora stanno tra grano e paleolite. Qui il luogo cruciale è sicuramente Bisaccia. Il paese è freggio e sfregio assieme. Bisaccia nuova fa cadere braccia. Bisaccia vecchia è un gioiello austero. Si sente il dolore e l'intensità di un paese lavorato dal freddo e dall'emigrazione. La cosa importante è guardarlo, camminarci dentro. Il passeggio viene ancora meglio a Sant'Andrea di Consa. Qui è proprio evidente il paese come teatro. Ognuno fa la sua parte e tu devi solo fare lo spettatore. Se hai fortuna trovi il primo attore, ma comunque la recita è più che dignitosa. È la recita della vita ordinaria. Può essere l'aria luminosamente messa di ottobre o l'effervescenza televisiva di agosto. L'Irpinia non ha molti pezzi firmati, non ti mette mai davanti al capolavoro. Magari ti può incantare l'abbazia del Goleto o l'oasi di Senerchia. Puoi sentire la solennità dei boschi a Verteglia. Ma la vera qualità è che non caschi mai nel vuoto. Ovunque vai hai sempre una qualche intensità che ti impiglia. Consa vecchia ti fa camminare in un paese abbandonato dopo il terremoto del 1980. E Aquilonia antico ancora ti fa vedere quello che resta dopo il terremoto del 1930. Sono luoghi in cui ci puoi passare due ore non banali. Ad Aquilonia c'è anche un bel museo della civiltà contadina. E se sei stanco di Irpinia d'Oriente ti puoi buttare in un'atmosfera completamente diversa. E ti fai un giro nei paesi sotto il Partenio. Oppure per quelli del vino. Taurasi, Tufo, Castelfranci, Montemarano. In quest'ultimo fanno anche uno degli ultimi carnevali autentici che si fanno in Italia. Un carnevale tutto basato su una tarantella ipnotica. Lo sguardo sull'Irpinia delle feste non può trascurare le tirate del carro dei buoi che si fanno a Mirabella e a Fontana Rosa. E poi ci sono le feste gastronomiche con le sagre della Castagna a Bagnoli e a Montella. Uniche giornate capaci, oltre a Pasquetta e Ferragosto, di portare in Irpinia molte persone dall'area metropolitana di Napoli. Il modo migliore di visitare l'Irpinia resta quello di andare in un posto qualsiasi in un giorno qualsiasi. Puoi cercare le attrattive dei posti che non hanno attrattive. Puoi salire a Trevico, il luogo più alto e più vuoto. Oppure puoi andare a Lauro, a Quindici, a Bagliano. Sei sempre dentro il piacere di vedere che ogni paese ha una sua forma, un suo sapore, ha una linfa che a volte nei luoghi più famosi non c'è più. In un tempo in cui pare che abbiamo visto tutto, il viaggio in Irpinia è una bella occasione per scoprire paesi e paesaggi inattesi.